È stato presentato oggi all'ospedale di Faenza il progetto di ampliamento del pronto soccorso. Quest'ultimo si svilupperà su una superficie di ulteriori millimetri quadri. Il significativo ampliamento delle dimensioni permetterà di migliorarne nettamente le capacità ricettive di assistenza e di privacy di un ospedale che offre servizi e assistenza ad un bacino di oltre 100.000 utenti. Il sindaco Malpezzi, le chiedevo velocemente quali saranno le novità di questo pronto soccorso, come mai si è deciso di muoversi in questa direzione. Insomma, Faenza di cosa ha bisogno? Certamente Faenza ha bisogno di un nuovo pronto soccorso. Non è che si è deciso adesso di realizzare questa nuova struttura, ma in realtà è dal 2004 come minimo che a Faenza si chiede a gran voce di realizzare questa nuova struttura. Faenza ha bisogno di un servizio di pronto intervento, di pronto soccorso che sia all'altezza di un presidio ospedaliero che dà una risposta a un bacino di 90-100.000 abitanti. Le condizioni logistiche dell'attuale struttura non sono certamente adeguate ai bisogni dei cittadini. Nonostante il personale si prodighi per assicurare una qualità nelle prestazioni elevata, è chiaro che la logistica ha un suo impatto molto rilevante. Per cui benvenga questo progetto da tanto tempo auspicato. È chiaro che i tempi di realizzazione saranno purtroppo ancora lunghi perché poi sentiremo dopo, si ipotizza il 2015, ma intanto andiamo avanti perché ce n'è veramente bisogno. La provincia di Ravenna come ha appoggiato questo progetto? C'è un'opera continua di riqualificazione delle strutture esistenti ed è una parte importante degli investimenti oltre a quella della costruzione di spazi nuovi. Nonostante il momento sia molto difficile per le risorse pubbliche, l'ASL, gestendo al meglio il suo bilancio, è riuscita a trovare i fondi proprio perché questo intervento su Faenza era ormai indifferibile. Era da tempo che se ne parlava. Oggi ci sono le condizioni progettuali ed economiche per fare partire al più presto l'opera e questo renderà l'ospedale di Faenza più efficiente al servizio della comunità di tutto il territorio faentino. Buongiorno, siamo qui davanti alla vecchia sede del pronto soccorso di Faenza che a breve verrà ampliato. Quando inizieranno i lavori e quando si concluderanno? I lavori dovrebbero iniziare con la fine del 2012 e concludersi entro il 2015. Abbiamo visto durante la presentazione in conferenza stampa che verrà ampliato di quasi 1000 metri quadri, ma a livello di personale quali saranno i cambiamenti eventuali? Ancora voglio dire, proprio perché abbiamo di qui al 2015, non ci sono, delle valutazioni di dettaglio, le faccio un esempio. Noi il 27 di aprile inaugureremo il nuovo pronto soccorso di Ravenna e l'adeguamento del personale lo abbiamo fatto in novembre. Quindi quello che è certo è che ogni riorganizzazione poi deve essere dotata adeguatamente del personale che è necessario per sostenerla. Quindi proprio perché noi avremo una superficie che è più che doppia, perché passiamo, se non sbaglio, dai 700 circa ai 1600 metri quadri, questo inevitabilmente avrà delle ripercussioni sulla dotazione del personale infermieristico e medico, anche perché le zone di trattamento vengono moltiplicate. Sappiamo che il bacino di utenza dell'ospedale di Faenza è molto ampio, quindi quali saranno comunque le agevolazioni di questo rinnovamento del pronto soccorso? Ma diciamo, allo stato attuale vuol dire l'ospedale di Faenza sta rispondendo, vuol dire, egregiamente alla domanda della popolazione. Dimostrazione ne sia che la quantità di persone che decide di essere trattata altrove rispetto al proprio territorio, dal 2004, questi sono i dati di quando io mi sono insediato, non si è modificata. Su ogni 100 persone che venivano trattate, che sono dimesse dall'ospedale, 83 venivano dimesse dalle nostre strutture aziendali. Noi abbiamo oggi concluso l'iter amministrativo progettuale, entro l'anno verranno giudicati i lavori che inizieranno per l'appunto entro la fine del 2012. Proseguiranno quindi per il 2013-2014 con fine complessiva nel 2015. Sono due gli interventi che abbiamo presentato, il primo riguarda i collegamenti verticali che sono proprio e deutici, poi al vero e proprio inizio dei lavori di pronto soccorso che avranno, come data d'inizio, per l'appunto 2013. Noi faremo di tutto per non avere disagi. È chiaro che sarà un cantiere importante quello che sarà presente all'interno dell'ospedale, però come abbiamo già avuto l'occasione di dire, noi siamo ormai abituati ad avere attività sanitarie che convivono con attività edilizie. Quindi non è la prima volta, faremo di tutto per evitare i disagi. Come le dicevo prima, noi costruiremo inizialmente una grande scala con ascensori e questa determinerà praticamente un nuovo punto di ingresso dell'ospedale oggi non esistente che permetterà per l'appunto di ridurre fortemente i disagi derivanti dal cantiere. Ma vediamo cosa pensano le persone dell'attuale pronto soccorso Faentino. Sì, purtroppo qualche volta sono dovuto venire qui e diciamo che mi sono trovato abbastanza bene. Il servizio sì, era discreto, insomma, che credo. Sinceramente non troppo bene perché ci mettono troppo tempo e magari anche se non è colpa loro vedi i dottori con le infermiere che stanno lì a chiacchierare, te magari sei su una barella. Diciamo, l'ultima esperienza è stata una colica renale, 12 ore aspettare una flevo antidolorifica. Comunque, diciamo così, che qui a Faenza non ho sentito persone che si siano lamentate del servizio. Quindi un tuo consiglio per migliorare il servizio? Un po' più di personale se è possibile e essere un po' più svelti perché la gente non viene qui per divertirsi ma perché sta male veramente. Secondo lei cos'è che dovrebbe migliorare nonostante adesso si sia trovato bene? Migliorare, diciamo così, forse i tempi. Ecco i tempi un po' è chiaro che appunto i pazienti sono tanti quindi bisogna attendere il proprio turno in base alla gravità che appunto uno può avere. Però adesso io non è che abbia frequentato spesso il pronto soccorso quindi non sono al corrente di tante altre situazioni che possano essere successe. Francesca Diletta per Ravenna Web TV Grazie a tutti.